Amici sportivi ben ritrovati, queste immagini si riferiscono all'amichevole di giovedì al campo di Moie, amichevole di lusso per la Mosaico Vallesina Calcio perché gioca contro l'Ancona. Vedete la fase di riscaldamento dei primi undici della Ciancona che giocherà con la tuta blu, maglia bianco-azzurra invece per la Mosaico Vallesina che sta effettuando anch'essa questi esercizi pre-partita di riscaldamento. Amichevole di lusso in quello che è il rapporto comunque buono tra queste due società e la seconda amichevole negli ultimi due anni tra queste due squadre proprio a dimostrazione di come tra Mosaico Vallesina e la Ciancona ci sia un buon rapporto di collaborazione. Siamo subito con le immagini al primo tempo, molti giovani della formazione Juniors inseriti nella squadra della Vallesina Calcio anche per l'Ancona squadra cosiddetta non titolare anche se per la Ciancona formazione di C1 al comando della C1 sicuramente ci sono 23 giocatori tutti in grado di giocare in prima squadra e da titolari. Lo hanno già dimostrato in questo inizio di stagione. Ancona che attacca da destra a sinistra c'è questa incursione, il tentativo in diagonale, pallone che esce veramente di pochissimo sul fondo, il tentativo è stato di miglietta. Il pallone ancora di lacrimini messo in mezzo, colpo di testa, deviazione, ci sarà calcio ad angolo a favore della formazione Dorica, pallone ancora in mezzo, Fanucci stacca più alto di tutti in mezzo a quattro avversari, prende il tempo alla traiettoria del pallone e infila l'angolo basso con il portiere Cortiso, portiere del Vallesina Max, portiere dell'Ancona che viene battuto. L'1-0 per la formazione Dorica, ancora Nassi, il controllo con il petto si gira bene di sinistro, pallone di poco sul fondo, poi l'opportunità con Vietto salta molto bene, Fanucci punta poi Zomeri, il tentativo di appoggiare il pallone, lo mette a sedere, esce veramente di pochissimo, occasionissima per la Vallesina per pervenire al pareggio. Bravo Vietto fino al momento della conclusione, poi ha un po' ciccato al momento del tiro, qui c'è ancora una conclusione di sinistro, pallone che si perde sul fondo. In avanti ancora la formazione Dorica, il tentativo di sinistro e la gran parata da parte di Cortiso che sicuramente ha dimostrato insomma quella che è la sua qualità tra i pali della porta della formazione al mosaico Vallesina che come vedete da queste immagini ha giocato insomma dignitosamente nei confronti dell'Ancona costruendo anche occasioni da gol. Intanto qui c'è il controllo, il tentativo ancora da parte della formazione Dorica, pallone recuperato ancora da Vietto, poi Nassi di testa ancora a Cortiso, veramente grande intervento distinto con il piede di sinistro, va a deviare il pallone in calcio d'angolo, dai qui sviluppi il pallone che viene messo in mezzo ancora a Cortiso, attento nell'area piccola ad allungare le braccia e a bloccare ancora il pallone. In avanti di nuovo la formazione Dorica, il tentativo che termina sul fondo da parte di Andrea Staffolani, veramente esce di pochissimo, poi c'è il recupero ancora di Nassi, pallone che arriva al limite, il destro nuovamente di Staffolani, Cortiso in due tempi. Con le immagini siamo al secondo tempo, si è chiuso sull'1-0 il primo tempo, Lacrimini prova il tocco sotto sull'uscita di Cortiso, pallone che si perde sul fondo, Lacrimini che è sinistro, giocava come detto in questa azione a destra, pallone intanto respinto, Miglietta controlla sinistro vincente all'altezza del dischetto di rigore. Rivediamo ancora il rallenty, cross in mezzo, deviazione di testa, vedete il controllo e il tiro di Chris Miglietta, tre gol in campionato in Serie C1 quest'anno, tutti e tre nelle prime due giornate di campionato. Mosaico che nel frattempo prova ancora a rispingersi in avanti, pallone controllato in area di rigore, il tentativo di cross, attento sul primo palo Enrico Guarna che ha difeso la porta dell'Ancora nel secondo tempo, ma in una delle ripartenze l'Ancora si rende ancora pericolosa, questo contrasto al limite della porta, c'è la deviazione alla fine di De Sosa, Claudio De Sosa, cross dalla destra, il controllo vedete prima di un infezione, poi De Sosa in qualche maniera sfiora il pallone, si può parlare forse anche di autorete, comunque De Sosa più vicino alla conclusione, il 3-0 dell'Ancona, poi ancora De Sosa, il controllo e il tiro decisamente bello, che questa volta batte Cortiso, prende bene il tempo al portiere De Sosa, vediamo ancora il rallenty, il cross di Caremi, controllo con l'interno del piede destro, con lo stesso piede ma di collo, trova potenza e precisione, palla che si infila sull'angolo basso con Cortiso battuto, prova ancora Giorgini a rimettere avanti il pallone, nel secondo tempo completamente un'altra formazione per la Mosaico, che prova comunque ad andare alla conclusione della distanza, pallone che si perde alto sopra alla traversa, opportunità ancora per la formazione Dorica, con Lacrimini, finta con il sinistro, mette il pallone in mezzo, leggera deviazione, c'è il calcio d'angolo per la formazione ospite, poi ancora il tentativo invece della Mosaico, pallone deviato di testa, ma non inquadra lo specchio della porta, pallone che termina sul fondo, c'è stata anche una deviazione e c'è quindi l'angolo a favore della formazione della Mosaico, ma di fatto finisce qui la partita, 4-0 per l'Ancuna, amichevole e importante in vista del match contro la Cagliese per la Mosaico-Vallesina.